Margherita Martelli, Fandango, che ci parla di un'esperienza molto positiva di distribuzione. Sì, salve a tutti, grazie, vorrei cogliere l'occasione ovviamente per ringraziare l'ambasciatore Bova di questo gradito invito. Io sono Margherita Martelli, coordinatrice delle vendite internazionali dei festival internazionali a Fandango Sales, che è la divisione per la distribuzione internazionale di Fandango, della società di produzione. Noi portiamo sul mercato internazionale e sulla scena dei festival internazionali le produzioni Fandango per la maggior parte, ma anche in quota minore film di produttori terzi italiani per la maggior parte, ma non solo, tant'è che l'area balcanica per noi, diciamo, da un punto di vista delle acquisizioni, un territorio a cui abbiamo sempre guardato con grande interesse, a cui guardiamo con molto interesse nell'ambito dei mercati a cui partecipiamo e abbiamo avuto, per citare soltanto il caso più recente della nostra line-up due anni fa, una coproduzione tra Francia, Italia, Spagna, Macedonia del Nord e Montenegro, un film di Moreraccia, Brome da Galaxy. E quanto invece alla nostra attività principale, quella di trovare una distribuzione nell'area balcanica per i film italiani, questo è un lavoro che Fandango Sales porta avanti da anni, puntando ad assicurare una distribuzione per i nostri film per tutti i diritti nell'area balcanica, ma non solo, puntando ad una release teatrical, ma senza dimenticare altre realtà, broadcaster e piattaforme BOD che operano nell'area. Esiste per quanto riguarda la distribuzione di tutti i diritti una realtà di distributori dell'area balcanica, piccola ma molto consolidata, con cui noi collaboriamo e con cui interlupiamo abitualmente, penso a realtà come Megacom, un distributore con sede in Serbia che ha distribuito quattro film di Fandango negli ultimi due anni e su questa collaborazione torneremo tra un attimo che è anche il motivo della mia presenza qua oggi. Questi sono tutti gli eventi che concorrono alla promozione, alla distribuzione del cinema italiano nell'area balcanica e il riferimento a Megacom, a nostra collaborazione con Megacom a cui facevo cenno, riallacciandomi in questo alla presentazione di Maria Cristina, per noi è stato molto importante e rappresenta un elemento molto interessante, il fondo di media films on the move di cui siamo stati beneficiari nel 2022 per la distribuzione del film Il Colibri, che è stato distribuito in 18 territori non nazionali, compreso appunto l'area dell'ex Yugoslavia grazie a Megacom e aggiungerei anche la Bulgaria. Il criterio di leggibilità per la presentazione della domanda di partecipazione al foco di films on the move è in primo luogo l'adesione di almeno sette distributori al progetto di distribuzione paneuropea del film. In questo i distributori dell'area balcanica sono degli alleati molto preziosi perché normalmente parlo quantomeno dei nostri interlocutori abituali, la distribuzione è per tutta l'area dell'ex Yugoslavia e questo garantisce di avere coinvolti nel raggruppamento già un numero di distributori quasi sufficiente a risultare leggibili e a poter presentare la domanda. Quindi questi sono tutti elementi in cui il sales agent ha un ruolo molto importante di coordinamento e che tutti contribuiscono alla distribuzione del film e da questo punto di vista sono molto contenta di aver potuto portare questa prospettiva della gente di vendita che penso riassuma gran parte degli elementi che sono stati toccati nel corso degli interventi molto interessanti a cui abbiamo assistito. Quindi vorrei anche ancora una volta sottolineare l'importanza di questo fondo che per noi costituisce un grandissimo valore aggiunto perché è un elemento attrattivo per i distributori che hanno la possibilità di rivedere coperto appunto il 70% delle spese di distribuzione del film in base al budget presentato. Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro perché la presentazione di Maria Cristina è stata chiarissima però anch'io mi rendo disponibile per qualsiasi chiarimento come persona che lo ha gestito rappresentante di una società che è stata beneficiaria ed avendolo poi personalmente gestito in prima persona penso che sia un elemento molto interessante di approfondire e di grande utilità nel nostro lavoro e nella distribuzione locale dei film. Quindi con questo chiudo.